Ogni tanto quando vengo qui a Messina vi faccio un giretto e cerco sempre un po' di dischi perché poi alla fine il piacere del disco in vinile secondo me non è tanto quello di comprare un disco costoso nuovo di zecca ristampato ma è proprio quello di andare in giro per mercatini e trovare qualcosa di interessante a poco prezzo o soprattutto trovare qualcosa che non si conosce il vinilfest è una vera e propria festa perché all'interno di questa manifestazione ci saranno i migliori dj della zona e anche da fuori che suoneranno vinili ultra rari ci sarà una bella festa in spiaggia e soprattutto quest'anno la festa sarà aperta anche al vintage allo gestistica e all'abbigliamento vintage lo scopo fondamentale del messina vinilfest è quello di riunire tutte le eccellenze siciliane insomma almeno della sicilia orientale e nell'ambito del vintage e del commercio dei dischi una giornata dedicata agli appassionati ma non solo e ricordiamo che siete giunti alla terza edizione quest'anno esattamente abbiamo già fatto le prime due edizioni in un noto live club del centro di messina e adesso ci spostiamo in una location più barneare al sunset francesco tu sei un messinese però vivi fuori cosa ti fa tornare di tanto in tanto a messina e cosa ti fa portare avanti iniziative di questo tipo io vivo da quasi vent'anni a roma mi piace assorbire cose belle che imparo fuori dalla mia città e cercare di portarle a cercare di portare a messina